Nasce a Torino BITO, il più grande circuito di biblioteche integrato d'Italia. Entra così nel vivo il percorso di realizzazione di un nuovo sistema bibliotecario che mette in rete le biblioteche civiche torinesi e quelle aderenti al sistema bibliotecario dell'area metropolitana torinese, lo SBAM. Attualmente gli iscritti complessivi e due sistemi sono oltre 750.000 e 1.700.000 ai prestiti di documenti annui. Questo è il primo sistema integrato, appunto, provincia e capoluogo che diventerà, e io mi auguro, un modello virtuoso da perseguire in tutta Italia. Le biblioteche coinvolte sono 30 e coprono l'intero Piemonte e mentre a Torino spiccano quelle universitarie insieme a quelle della città di Torino, dei musei civici e del Museo Regionale di Scienze Naturali, sono presenti le biblioteche dei capoluoghi di provincia di Alessandra, Biella, Novara e di città di importanza storica quali Domodossola, Mondovì, Chieri e Cherasco.